Soltanto 10 positivi su quasi 6.000 tamponi effettuati. Anche i dati forniti ieri sera dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania sono rassicuranti. Nel dettaglio i tamponi processati sono stati 5.983 e 10 sono risultati positivi. Il totale complessivo dei positivi in Campania oggi è a quota 4.733 su 161.825 test eseguiti. Bene anche la provincia di Salerno. All'ospedale Ruggi sono stati esaminati 1.179 tamponi di cui uno risultato positivo. Sul fronte politico c'è da registrare la presa di posizione del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sulla questione degli aiuti negati ad alcune zone rosse. In questo ha trovato suo alleato il collega del Veneto, Luca Zaia. De Luca ha parlato di incredibile decisione da parte del Governo. È sconcertante che sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse come il Vallo di Diano e l'area di Ariano Irpino dal fondo dedicato alle aree colpite gravemente dall'emergenza Covid. Chiediamo, ha aggiunto il Governatore, che si corregga immediatamente questa disposizione da parte del Governo. Ieri sera hanno riaperto ristoranti, pub e pizzerie. Insomma, la Movida è tornata, ovviamente, con tutti i limiti imposti dalle misure di sicurezza. Non c'è stato il pienone, tranne alcune eccezioni, ma era naturale. Ora i gestori, allo stremo per una chiusura che dura da due mesi, sperano nel primo fine settimana della ritrovata parziale riapertura. Mentre medici e virologi dicono che questa sarà la vera prova del 9 sulle misure adottate dal Governo all'inizio di marzo. I risultati si vedranno dunque nella prima settimana di giugno e sarà allora il momento di tirare un primo bilancio complessivo di quello che è successo in Italia. Se la risalita dei contagi sarà, come ci auguriamo, lieve, se non addirittura in ribasso, allora la strategia del Governo del cosiddetto rischio calcolato avrà successo sociale e di consenso. Se invece ci sarà la risalita dei contagi, non potranno esserci dubbi. Il virus è ancora in circolazione e bisogna stare attenti con tutte le precauzioni se non vogliamo rischiare di passare l'estate tappati in casa. Non ci resta che incrociare le dita, come si dice in questi casi. Tra dieci giorni sapremo effettivamente come andremo avanti. Riaprono gli scavi archeologici di Pompei ed è una buona notizia perché vuol dire che riparte, almeno tenta di ripartire, anche il turismo. Sarà una riapertura in due fasi. Si parte il 26 maggio con le prime due settimane in cui sarà consentita una passeggiata lungo le strade della città antica per tornare ad ammirare i luoghi più rappresentativi del sito e godere delle loro atmosfere uniche secondo un percorso prestabilito su fasce orarie e con le necessarie misure di distanziamento previste dal Ministero della Salute. Già in questa prima fase sarà possibile accedere ad alcune case dotate di ampi spazi e scoprire alcune novità in anteprima, come la Domus di Cornelio Rufo che ingloba il florido giardino di recente restaurata. Dal 9 giugno seguirà una seconda fase con due itinerari accessibili dagli ingressi di Porta Marina e Piazza Anfiteatro. Il biglietto d'ingresso in questa prima fase avrà un prezzo agevolato di 5 euro e si potrà acquistare soltanto online. È una buona occasione soprattutto per i cittadini campani che possono visitare la città antica non ancora affollata da turisti stranieri, veri fruitori di una bellezza assoluta. Quante persone che hanno gli scavi a pochi chilometri da casa non ci sono mai entrati?